posizionati a terra pancia sopra con le braccia distese verso il soffitto i piedi sollevati da terra e le gambe piegate con le ginocchia che si trovano esattamente sopra il bacino da questa posizione stendi lentamente una gamba in avanti come per dare un calcio ritorna poi nella posizione iniziale e riparti facendo lo stesso movimento con l'altra gamba l'importante è muoversi lentamente e tenere la parte bassa della schiena attaccata a terra quando entrambe le ginocchia sono verso il petto devi prendere aria dal naso quando stendi la gamba in avanti devi soffiare forte o fuori l'aria dalla bocca grazie a tutti grazie a tutti